Allora, sono Maria Antonietta, faccio parte del progetto Ci vediamo martedì, è nato grazie alle due associazioni CCSV, Nellosferosi Multiple e Amico Parkinson. Era un progetto, è un progetto improntato sui laboratori di musicoterapia, arteterapia, psicomotricità e stimolazione cognitiva ed era rivolto a tutti, quindi per tutta la comunità. Le associazioni hanno sede a Castelmaggiore e a Granarolo dell'Emilia, ma ovviamente ci siamo spostati nel tempo, quindi siamo andati un po' in giro all'interno del distretto della pianura est, con dei momenti di incontro dei due gruppi, quindi facendo anche delle attività e subito dopo facevamo anche un piccolo momento conviviale. Il valore del volontariato, in questo caso, è legato non solo al tipo di supporto, quindi al supporto alle attività effettive, ma anche alla capacità di poterci raccontare e di arrivare a più persone possibili. Quindi le comunità aumentavano, siamo diventati molto di più e speriamo di continuare lungo questo percorso. I laboratori ci hanno permesso di conoscere delle persone diverse, di accettare la diversità, di sentirci un po' meno diversi o più diversi e di condividere assieme un momento tutti i martedì.